Allora, Assessora, una riunione piuttosto concitata, ma comunque dai toni accesi al termine. Sembra che si sia un po' chiarito tutto. Lei ha preso degli appunti, alcuni problemi sono stati sollevati. Rimane il discorso che entro lunedì i box di San Lorenzo devono riessere occupati, quindi devono lasciare le vecchie postazioni e tornare di nuovo sui loro luoghi originari. E poi ancora per l'ortofrutta e il trasferimento d'obbligo rimane il problema della superfetazione, l'edicola, anche tante altre cose che sono state poste e lei ha preso nota. Probabilmente si potrà trovare una soluzione. Allora, che cosa ne pensa di questo incontro? L'incontro sicuramente è stato, almeno per quanto mi riguarda, profiguo perché è un battesimo nel mercato, perché fino adesso ne sono rimasto un po' fuori perché è stato seguito dall'assessore Pantanelli, quindi siccome presto passerà al commercio è giusto che cominci ad interessarmi anche di questo. L'assessore Pantanelli ormai è arrivato a buon punto, diciamo lui è stato meno fortunato di me perché ha dovuto affrontare la parte più dura della situazione del mercato. Adesso ovviamente, siccome la situazione non è semplice, sono rimaste alcune piccole sfaccettature da limare, quindi sicuramente da parte nostra c'è la massima disponibilità per risolverle dove possibile. Dove non possibile bisognerà che un po' noi e un po' loro ci adeguiamo alla situazione attuale. L'assessore Pantanelli la settimana prossima andrà alla sovrintendenza proprio per risolvere la problematica delle superfetazioni e se posso lo raggiungerò, quindi ci andremo insieme. Lei si è impegnato di fronte ai mercatali, da essere presente proprio anche per la questione del mercato del pesce. Esattamente, quindi ci andrò con lui sicuramente e poi per il resto tutti gli altri problemi sollevati in realtà non li vedo insormontabili, sono problemi che si possono affrontare, ci vorrà un po' di tempo per sistemare tutto ma sicuramente riusciremo a trovare una soluzione condivisa che sia bene a tutto.